E l'Islanda, ragazzi, fa lo scherzetto all'Argentina e la blocca sull'1-1, un mondiale difficile per le big, ragazzi. Ben ritrovati in un nuovo video dedicato al Mondiale di Russia 2018, sempre supportatemi con un like, ragazzi, e mi raccomando iscrivetevi al canale. Mi verrebbe subito da dire la differenza tra Messi e Cristiano Ronaldo, almeno in queste due partite, è tutta qui. Quindi, per carità, Messi è sempre una divinità e io non mi nascondo, lo continuo a preferire a CR7. Per me Messi è genio, è estro, è un qualcosa oltre. Cristiano Ronaldo è una macchina perfetta, però in termini di mentalità, ragazzi, Cristiano Ronaldo è sicuramente più forte di Messi. Sicuramente. E anche oggi l'ha fatto vedere il perché. Perché? Perché Messi è un giocatore molto emotivo, soffre le partite quando inizia ad andare male, si scoraggia, si butta giù, poi sbaglia i rigori. Oggi è stato decisivo in negativo, ieri CR7 decisivissimo, in positivo, quindi ad oggi stravince Cristiano Ronaldo assolutamente contro Messi. L'Argentina è abbastanza deludente, ma qui a differenza della Francia, ragazzi, che oggi per me è stata molto deludente, qui voglio fare i meriti anche all'Islanda, che non è più una sorpresa ormai, è una squadra ben organizzata, fisica, che sfrutta tutti i suoi punti di forza, la forza fisica, le palle sporche, fanno queste torri, con giocatori tutti alti, grossi fisicamente. È una bella squadra, ragazzi, è una bella squadra, è la classica mina vagante, che può sorprenderti, può far male, può sorprenderti, veramente come se nulla fosse. Per il resto dell'Argentina, ragazzi, Di Maria, malissimo, per me non stava manco giocando, cioè, poi ho sentito il tecnologista, esce Di Maria, ho detto, ma come, Di Maria sta giocando, non ha toccato veramente un pallone. La difesa dell'Argentina, in occasione del gol, fa veramente acqua da tutte le parti, mancano terribilmente i vari Samuel, Zanetti, non lo dico perché sono interista, ma, onestamente, l'Argentina per me non ha più grandi difensori. C'è il miglior difensore, Otamendi, che comunque per me è abbastanza sopravvalutato come difensore. E quindi, ragazzi, per il momento è un mondiale così, per le bighe è un mondiale difficile. Oggi la Francia ha vinto, ma proprio a culo, e l'Argentina oggi, invece, no, è sbattuta contro l'iceberg dell'Islanda, se si può dire così. Vedremo un po' che faranno le altre. Io continuo a dire che la mia favorita è il Brasile. Vedremo un po' come si comporterà. L'Argentina non mi è piaciuta assolutamente. L'Argentina soffre un po' di psicosi, ragazzi. Un po' come la Juve con la Champions League. Uguale. Quando l'Argentina e i giocatori dell'Argentina messi e vanno con l'Argentina, è proprio un'involuzione pazzesca. Soffrono la partita, l'importanza della partita. E questo era l'esordio del mondiale. Non è che dici una finale. Però ci sono alcuni giocatori così, che soffrono troppo la partita. Messi è emblematico. È fortissimo, per carità, ma è emblematico. Oggi, veramente male. Male l'Argentina, non mi è piaciuta manco tatticamente. San Paolo fa troppi stravolgimenti. Vuole fare troppo, secondo me. Per me è un ottimo allenatore. Molti lo prendono per il culo, perché non ha convocato i cardi. Ma per me comunque San Paolo è un ottimo allenatore. Però vuole strafare, vuole fare un po' troppo il fenomeno. Ti mette Salvio terzino destro. Vuole fare un sacco di cose spettacolari alla Zeman. Ma, insomma, assolutamente male. Male l'Argentina, poteva rischiare anche Dybala, secondo me, prima. Iguaini, inserirlo prima. Quando giochi con una squadra così fisica, hai bisogno comunque di uno che vada a contrasto in area di rigore, perché fisicamente l'Islanda ti ha divorato vivo. Comunque, ragazzi, questo penso di questa partita tra Argentina e Islanda. È stata una grande sorpresa, ma onora all'Islanda. Veramente una squadra quadrata. Anche il portiere ha fatto un paio di parate molto importanti. squadra fisicamente bella piazzata, tatticamente forte, rocciosa. Veramente bravi. Bravi l'Islanda, deludente Argentina, CR7, ad oggi stravince contro Messi il duello mondiale. Fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video, ragazzi. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Seguitemi anche su Instagram. Lasciate un like di supporto, ragazzi. Ci vediamo in questi giorni per nuovi video. Non credo stasera di fare un video su Croazia-Senegal. Proprio dovesse succedere qualcosa di straordinario, allora lo farei. Ma vediamo. Ciao, amici miei. Un saluto a tutti. Sempre ama. Ci sentiamo in questi giorni per nuovi video dedicati all'Inter, calciomercato e mondiali. Ciao, ragazzi.